questo procione di nome Roxy ha imparato le buone maniere quando vuole del cibo non ruva più dalla ciotola del gatto nel cortile ma bussa direttamente alla porta di casa riclamando un pasto l'utente di youtube che ha caricato il video racconta che il procione vive nel suo cortile da anni e che dopo svariate razzie di cibo dalle ciotole del gatto ha imparato a bussare cortesemente una tecnica irresistibile